E' uscito il numero 2 del 2016 di Notizie, magazine della regione Piemonte che ospita l'editoriale del rettore dell'Università di Torino che guarda la Cina. Apertura sulla riforma costituzionale, poi spazio al tema dei trasporti e della logistica e alle eccellenze locali con le piccole imprese di nicchia che rappresentano un fiore all'occhiello internazionale. Notizie non manca di ricordare anniversari importanti come i 150 anni del canale Cavour, mentre la consueta sezione dei giacimenti culturali è rivolta alla storica presenza dei Longobardi e della loro civiltà.